Una buona giornata cari amici, ben ritrovati. Oggi chiudiamo definitivamente il cerchio su questo grandioso europeo. L'abbiamo vissuto, raccontato e discusso passaggio per passaggio, partita per partita. Abbiamo celebrato la grande vittoria dell'Italia raccontando cosa ha voluto dire e cosa vorrà dire, cosa ancora più importante in futuro. Abbiamo parlato l'altro giorno delle cose belle di questo europeo attraverso un atto pundice che ho visto. Vi ha fatto parlare, vi ha fatto discutere, certe notazioni le ho anche registrate, diciamo, ma io vi ho dato la mia formazione proprio per questo. Oggi invece, come ultimo appuntamento riguardante l'europeo azzurro, l'europeo del nostro trionfo, della nostra resurrezione, io voglio parlare di quelle che sono state le cose negative. I giocatori o gli obiettivi disattesi in questo europeo, i flop. per dirla in maniera diretta. Ho scelto una forma particolare rispetto al solito, infatti vedete anche nel video, vi ho detto che oggi parleremo dei flop dell'europeo, non della flop 11, perché non ho voluto fare una formazione, ma ho voluto indicare i giocatori che mi hanno deluso reparto per reparto, senza schierare una squadra, ma proprio presentando le figure, e non sono poche, che dovevano fare di più, che hanno fatto una manifestazione negativa e dalle quali probabilmente anche le loro squadre hanno tratto la difficoltà che le ha portate a non essere protagoniste fino in fondo. Per cui parliamo dei flop di questo europeo e ripeto, ci sono nomi decisamente, decisamente importanti. Per quanto riguarda il portiere, sul portiere ho ragionato un po', perché un vero e proprio portiere flop secondo me non c'è stato. L'errore, la papera più incredibile l'ha regalata Unai Simon nel quarto di finale contro la Svizzera, su quel retro passaggio di Pedri, un vero e proprio buco da parte del portiere della Spagna e dell'Atletic Bilbao, però lungi da me inserire Unai Simon fra i flop di questo europeo, perché ha avuto anche la grandissima mentalità di reagire immediatamente all'errore. E le parate di Unai Simon sono state parate basilari per il percorso della Spagna arrivata fino alla semifinale. Ci sono stati un paio di portieri che hanno fatto delle autoreti, anche abbastanza goffe, Dubravka, Szczesny, sicuramente trattandosi anche di portieri di rango ci si aspettava qualcosa di più, però indicarli come vere e proprie delusioni mi sembrerebbe troppo. Alla fine forse il più deludente è stato Steckelenburg dell'Olanda, per colpe sue non credo sia più ammesso che lo sia mai stato, un portiere da massimo livello, però bisogna anche dire che l'esperienza romanista non è stata granché, però ha avuto anni importanti Steckelenburg. Io credo che, insomma, Krull, che gli ha lasciato spazio, abbia dei valori assoluti superiori. Steckelenburg delle incertezze le ha mostrate, degli errori li ha fatti, quindi mi sentirei di indicare il suo come nome principale, detto appunto di altri portieri che non sono stati propriamente al top. Però in generale io credo che questo europeo abbia mostrato anche delle prestazioni sorprendenti da parte di alcuni portieri, il primo che mi viene in mente fra quelli meno conosciuti e meno attesi Radecki della Finlandia. Però ecco, i flop diciamo ve li ho indicati e mettiamo Steckelenburg come portiere simbolo di questo flop. Passiamo ai difensori e la cosa si fa interessante perché ci sono nomi grossi, a partire da quello di Hummels. Non voglio essere eccessivamente critico nei suoi confronti, però Löw lo ha richiamato perché si trovava in difficoltà nell'affidare la leadership della propria difesa e non mi pare che Hummels abbia dato grandissime garanzie. Al di là dello sfortunato autogol contro la Francia ci sono stati momenti di carenza e non ha mai preso in mano un pacchetto che non ha convinto neanche nei suoi passaggi migliori in questo europeo. Io credo che Hummels sia stato un grandissimo difensore, non un super top perché gli ho sempre visto un pochino di lentezza per essere considerato un super top, a maggior ragione ora che la carta d'identità insomma reclama la propria importanza perché Hummels sicuramente è stato un difensore deludente di questo europeo. A lui aggiungo, senza pensarci un attimo, Pavard, il terzino destro della Francia, altro difensore di alto rango, elemento che era stato invece sorprendentemente positivo nella conquista mondiale. Dei Bleu, difensore di riferimento anche nel grande calcio internazionale, io ho visto Pavard sempre in difficoltà, sempre in difficoltà, l'ho visto annaspare contro l'Ungheria nel girone. Sicuramente di una difesa francese svagata, di una difesa francese insufficiente rispetto alle aspettative e ai compiti che doveva avere, lui è stato l'elemento più in difficoltà. Indubbiamente fra i flop difensori di questo europeo metto anche il comparto difensivo della Polonia. Glick, Benarek, Berezinski. Benarek è un giocatore conosciuto in Premier League. Glick ha vinto un campionato francese con il Monaco e è tornato quest'anno in Italia dove ha fatto molto bene con il Torino. Berezinski da anni gioca in Serie A nella Sampdoria. La Polonia, che è una squadra che secondo me ha qualche alibi perché ne abbiamo parlato durante il percorso. Paolo Sousa è arrivato da poco ed è uno che ha un gioco molto elaborato, anche proprio da assimilare. È una squadra che ha perso Milik, però che è la squadra di Lewandowski non passi il turno in un girone del genere e abbia questo tipo di difficoltà, soprattutto secondo me dovuto al fatto che i difensori non hanno fatto il loro dovere. Ho visto una Polonia anche abbastanza confusionaria, oltre che un pochino rozza dietro, per cui il comparto difensivo della Polonia lo prenderei in blocco. E forse fra i flop dell'europeo. Qua lascio un po' la discussione aperta, ma come su tutti gli aspetti, però su questo in particolare, forse fra i flop difensivi dell'europeo bisognerebbe inserire anche De Ligt. Mi spiego. De Ligt è un difensore che ha tutta la mia stima. Per me è veramente un difensore forte, destinato ad imporsi come uno dei punti di riferimento assoluti nel ruolo, ammesso che non lo sia già, sicuramente lo sarà, nei prossimi anni. De Ligt ha anche fatto delle cose molto buone in questo europeo. Però poi in fin dei conti l'Olanda è crollata definitivamente contro la Repubblica Ceca per un suo incidente, per un suo errore. Quel fallo di mano con espulsione che ha sgretolato tutto il castello di carte, perché non era assolutamente una costruzione solida, però ha sgretolato completamente il piano di De Burr. E quindi forse De Ligt, insomma anche per ripetersi un po' di questo tipo di incidenti, potrebbe essere indicato in questa serie, ma ripeto, voglio lasciare la discussione piuttosto aperta. Veniamo al settore del campo che secondo me ha riservato le delusioni più forti. Ed è il settore dei trequartisti, delle mezze punte, dei fantasisti, quelli che devono incendiare la partita, e invece abbiamo avuto dei flop veramente, veramente roboanti. Uno di questi, Cialanoglu. La Turchia per me è stato il flop più grande di tutto l'europeo, perché è una squadra dalla quale mi aspettavo molto molto di più. Non solo non ha passato un girone che era alla portata dei turchi, perché Italia a parte, Svizzera e Galle si potevano gestire, sicuramente la Turchia poteva fare di meglio, poteva almeno fare un punto, poteva forse farne anche tre. E quindi in un'espressione di squadra che è stata stranegativa a tutti i livelli, avrei messo giocatori turchi veramente in tutti i reparti, però ha cercato di indicare i nomi principali. Anche fra i difensori, insomma, io dico che Suyuncu e Demiral, anche per l'autorete di Demiral che ha aperto la manifestazione, sono assolutamente da flop. La Turchia non ha avuto un terzino destro presentabile, mi verrebbe da dire, però ecco, siccome stavamo parlando di trequartisti, Cialanoglu è stato indubbiamente deludente. Gli ha dato una mano in questo suo essere deludente, il piano sempre confusionario del CT, però da Cialanoglu ci aspettava di più. Diciamo che l'highlight dell'estate di Cialanoglu è arrivato appena dopo l'uscita della manifestazione, con il suo passaggio che sarà anche polemico dal Milan all'Inter, sui campi dell'europeo non si è praticamente mai visto, il principe turco, per cui lui è indubbiamente un grande flop. Così come è un flop Müller della Germania, altro veterano che era stato escluso dal progetto e che poi Löw ha richiamato in fretta e furia, Müller è stato uno dei pilastri anche solo della recente nuova imposizione straordinaria del Bayern Monaco. Diciamo che questa nazionale, secondo me, non ha trovato neanche le condizioni ideali, perché Müller è straordinario nel giocare sotto punta e la Germania si è presentata dagli europei senza punta. Una scelta forse anche un po' obbligata, però una scelta che non ha pagato minimamente. E sull'europeo di Müller, al di là di non essere stato protagonista, si parla di un giocatore che ti attendi sempre, sempre fra i protagonisti primari della partita, c'è quell'occasione incredibilmente vanificata contro l'Inghilterra, che è stato l'addio all'europeo della sua nazionale, per cui non può non essere un flop Müller. Così come sono due flop abbastanza imponenti anche i portoghesi, i due principali fantasisti del Portogallo. Detto che un altro portoghese che voglio inserire fra i flop è nel segno Semedo, a livello di difensori, perché Semedo è stato catapultato alla titolarità dall'indisponibilità di Cancelo, lì il Portogallo ha perso tantissimo. Semedo se ripensa la partita contro la Germania, veramente ha fatto fare un figurone a Gossens e ha imbarcato acqua da tutte le parti, però stavamo parlando di trequartisti. Bernardo Silva e Bruno Fernandes hanno fatto decisamente male. Secondo me per motivazioni differenti. Sono due leader tecnici di due colossi mondiali, come Manchester City e Manchester United. Però Bernardo Silva l'avevo già visto un po' in callo nel finale di stagione. La finale di Champions League non è stata sicuramente la sua miglior partita stagionale. Io credo che abbia anche un po' pagato, così come Bruno Fernandes, il tipo di calcio che pratica il Portogallo. Perché nel club Bernardo Silva ha la possibilità di un sistema in costante movimento che gli permette di essere ingranaggio illuminante, di esercitare il proprio calcio di visione e di tecnica sempre in ritmo. Il Portogallo questo non lo fa. Il Portogallo è una squadra, e vi lo dicevo già prima all'inizio della manifestazione, che ha assolutamente il pallone, sa cosa fare con il pallone, ma tende ad addensarsi troppo nella zona di rifinitura. E questo secondo me Bernardo Silva l'ha pagato, al di là di una condizione fisica un pochino deficitaria. Per Bruno Fernandes il discorso può essere più o meno lo stesso. Nel Manchester United è secondo attaccante, è uno degli ultimi numeri dieci rimasti, Bruno Fernandes. Però il Manchester United è elemento risolutivo, con l'assist, con il gol, e gioca a supporto di una punta vera e propria. Una punta magari di movimento, ma una punta vera e propria. Nel Portogallo no. Nel Portogallo è centrocampista offensivo, in un sistema in cui Cristiano Ronaldo è assolutamente l'epicentro e sappiamo cosa può dare Cristiano Ronaldo. Gol, gol, gol. Tutte le partite. Ma anche cosa può togliere. Soprattutto profondità davanti. E a un giocatore come Bruno Fernandes serve tantissimo l'elemento davanti che va in profondità. Primo perché è uno sbocco per la possibilità dell'assist. secondo perché è un attaccante che aggredisce l'area di rigore, gli libera quello spazio di definizione al limite sui 20 metri che lui sa sfruttare come pochi altri al mondo. Tutto questo nel Portogallo non è successo. Di conseguenza Bernardo Silva e Bruno Fernandes sono entrambi dei flop di questo europeo, come Müller, come Cialanoglu e come altre mezze punte che aspettavamo e che fondamentalmente abbiamo continuato ad aspettare. Passiamo al settore offensivo. Parliamo di esterni d'attacco. Parliamo di esterni d'attacco e sono due soprattutto i nomi che mi hanno colpito in negativo. Uno è quello di Sané della Germania. Giocatore al quale lui aveva dato tutta la fiducia possibile. Giocatore che ha dei mezzi che non vi devo stare a raccontare perché sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, forse Sané è stato il più sconcertante in assoluto nella Germania perché poi ripeto Müller è stato un flop, lo stesso Gnabry non è che abbia fatto niente di sensazionale, fra i centrocampisti anche Gundogan e Kroos di solito si esprimono su livelli ben più alti, vi ho detto di Hummels, però Sané è stato incredibilmente fuori da ogni momento in cui è stato messo in campo. Un giocatore che sembrava quasi estraniato, forse è il flop più flop di tutti. Sané, per cui sono rimasto veramente colpito da questa situazione. E un altro giocatore che, insomma, poteva sicuramente fare qualcosa in più rispetto alle credenziali in cui si è presentato è Rebic. Perché Rebic, in una Croazia dove gioca diversamente rispetto a quel che fa con il Milan, perché la fascia sinistra è il feudo di Ivan Perisic, non ha trovato quella dimensione di goleador che gli ha permesso di esplodere fortemente con la maglia rossonera. Rebic è mancato alla Croazia. E se Sané sicuramente è un flop più grande, però anche quello di Rebic è da citare e da sottolineare. Per arrivare poi agli attaccanti veri e propri. Una delusione gigantesca è stata Burakilmaz. Burakilmaz, dopo aver trascinato il Lille alla conquista della Ligan, sembrava poter essere la grande punta di diamante di una baldanzosa Turchia e invece la Turchia è stata impalpabile e Burakilmaz non solo non è riuscito a trascinare questa squadra, ma si è anche mangiato un gol clamoroso nella partita contro il Galles, la seconda, quella che poteva mettere in moto i Turchi. Un errore veramente non da lui, per cui Burakilmaz è sicuramente centra avanti flop di questo europeo. Morata, ci ho fatto dei ragionamenti. Morata è un flop, ha sbagliato il rigore decisivo, per aver assegnato il gol dell'1-1. È stato contestatissimo oltre ogni limite accettabile, ma oltre un bel pezzo. Eppure Morata è uno che dei gol ha messi e i movimenti che fa per la squadra sono movimenti ai quali è molto difficile rinunciare. Non so se voglio considerare Morata un flop di questo europeo. Chi invece per forza deve essere considerato un flop è Kylian Mbappé. Il rigore è sbagliato con la Svizzera? Questo pesa, pesa enormemente, perché stiamo parlando non di un campione, non di un grande giocatore, ma di un potenziale numero uno indiscutibile, inarrivabile. Per tantissime cose lo è. E lo ha fatto vedere anche in questo europeo, in cui però non ha fatto gol. È vero che ha partecipato a praticamente tutti i gol segnati dalla Francia, gli sono stati anche annullati, però uno come Mbappé che non segna nemmeno una rete in quattro partite all'europeo. E ti sbaglia il rigore determinante contro la Svizzera. È assolutamente un flop. Un flop di incoraggiamento, mi verrebbe da dire. non cambia nulla nella mia percezione di Mbappé come semidio del calcio. Noi semidei sono Messi, Cristiano Ronaldo, però come elemento destinato a dominarlo il mondo del calcio. E questo dominio è già anche abbastanza iniziato. Però se parliamo dei temi della manifestazione, mi spiace molto, ma Kylian Mbappé ne esce decisamente male. Ha anche dovuto chiedere scusa, ci sono state anche polemiche attorno. In una Francia che, insomma, di flop ne ha fatti vedere, lui non può non esserci. Lui non può non esserci fra i flop, perché appunto si parla di Kylian Mbappé. Quindi anche il suo nome è un nome che compare in questo elenco. Parlando di allenatori, detto che secondo me Gunes, il CT della Turchia, e Cherchesov, il CT della Russia, sono stati responsabili di flop giganteschi, perché dalla Turchia si aspettava molto più, ma insomma ho parlato abbondantemente della Turchia. La stessa Russia è una squadra che si è presentata decisamente male sui campi di questo europeo. Aggiungo anche De Burr, perché De Burr inizialmente sembrava aver in qualche modo risposto alle critiche, ma nel modo in cui la sua squadra si è sciolta completamente al cospetto della Repubblica Ceca, buttando anche via la possibilità di una parte di tabellone che poteva portare l'Olanda piuttosto avanti, insomma, infatti è stata la pietra d'un balle sull'avventura di De Burr come CT degli Orange. Ha sbagliato, ha sbagliato le scelte, è stato anche tradito da qualche uomo, perché poi in tutto ciò non li inseriscono nei flop, perché non sono stati dei flop, però De Jong e Wijnaldum per come si sono sfaldati nell'ultima partita sono andati decisamente male e De Burr deve prendere questa responsabilità. Ha fatto l'in, ha scommesso forte e ha perso. Bene, sono sicuro che avrete dei nomi ulteriori da mettere a questa lista, presentati principali, i primi che mi sono venuti in mente, adesso la parola a voi. Vi auguro una grande giornata e torneremo presto a parlare di grande calcio qui sul nostro canale. Avendo archiviato la Coppa America e l'Europeo, adesso cominceremo a proiettarci verso la prossima stagione del calcio dei club. A prestissimo.